Capitolo 6. Per la liquirizia. Ecco una bella sfida. Provate a stare un'intera giornata a scuola, che è già una sfida di per sé, e poi, subito dopo, andare alla ricerca di una dea sapendo che quando tornerete a casa, se mai ci tornerete, vi aspettano ancora un paio d'ore di compiti di matematica e scienze. Mentre ci dirigevamo in centro ero quasi nauseato e non aveva niente a che fare con il mega frappè che avevo ingurgitato. Grover ci portò subito a Times Square, la zona più rumorosa, più affollata e più infestata da turisti di Manhattan. Io cercavo di evitarla il più possibile, il che naturalmente significava che continuavo a esservi risucchiato, di solito per combattere un mostro, parlare con un dio o appendermi in mutande a un cartellone pubblicitario. Storia lunga. Il mio amico satiro si fermò davanti a un negozio che io avrei di certo ignorato, per mezzo isolato tutte le vetrine erano oscurate da lastre d'alluminio, di solito significa che il posto è chiuso o è superlosco. Poi però alzai lo sguardo sull'enorme insegna elettronica sopra l'ingresso. Probabilmente c'ero passato davanti una decina di volte in passato, ma non ci avevo mai prestato attenzione. A Times Square è un po' come se tutti quei colossali e pacchiani tabelloni digitali si fondessero insieme. Non ci credo, dissi. Annabeth scosse la testa. Ha davvero chiamato il suo locale Ebetudine? Purtroppo sì, sospirò Grover. E tu come fai a conoscerlo? Gli chiesi. Grover arrossì. Hanno delle stringhe di liquirizia fantastiche. Non puoi passarci davanti senza sentirne il profumo. Dalle vetrine non riuscivo a vedere nulla e decisamente non sentivo nessun profumo. D'altra parte non ho il fiuto di un satiro per la liquirizia. Per loro è un po' come l'erba gatta. In pratica è un negozio di caramelle? domandò Annabeth. No, è più un... Grover scosse la testa. Forse è più facile se ve lo mostro. Non ero certo che entrare nel covo di una divinità fosse una buona idea. Ma Grover spinse la porta e noi lo seguimmo. Per la liquirizia, suppongo. Dentro... Beh, immaginate tutte le sale giochi più kitsch degli anni novanta messe insieme, più caramelle e dolciumi di ogni tipo. Quello era l'Ebetudine. File di skiball pronte all'azione. Una decina di piattaforme di Dance Dance Revolution che ammiccavano e lampeggiavano invitandoci a ballare il boogie. Tutti i videogiochi di cui avevo sentito parlare e decine di altri che non conoscevo, allineati in corsie in un ambiente immenso e fiocamente illuminato, tanto da renderlo un baluginante labirinto. E labirinto è una parola che non uso mai alla leggera. In lontananza notai uno stand self-service di caramelle ed enormi bidoni di dolci colorati. In fondo al salone c'erano una caffetteria con tavolini e un palco dove iguane robot strimpellavano strumenti di vario genere. C'era una vasca di palline grande come una casa, una parete per l'arrampicata che sembrava un gigantesco parco giochi per criceti, una pista di autoscontri e una postazione per cambiare i biglietti premio con enormi animali di peluche. L'ambiente odorava di pizza, salatini e detergente industriale ed era pieno di famigliole. Adesso capisco, se c'è Anna Beffer a brevidendo, questo posto inebetisce davvero. Ci sono venuto un paio di volte, l'espressione di Grover era una combinazione di ansia e fame, che a pensarci bene era la sua espressione abituale. E non ne ho mai trovato la fine. Guardai i bambini felici che correvano spensierati e i genitori che sembravano altrettanto entusiasti di lanciarsi in giochi che probabilmente ricordavano dalla loro infanzia. Va bene, indietreggiai verso la porta d'ingresso. Mi stanno arrivando forti vibrazioni da Hotel Casino Lotus, cioè un Lotus a basso costo, ma comunque non dovetti spiegare cosa intendevo. Qualche anno prima eravamo rimasti bloccati in un casino di Las Vegas che offriva mille motivi per non andarsene più. Eravamo riusciti a scappare per un soffio. Non è una trappola, ci assicurò Grover. Almeno io non ho mai avuto problemi ad andarmene. Queste famiglie vanno e vengono, non sembrano bloccate nel tempo. Aveva ragione. Non vedi nessuno con pantaloni a zampa di elefante o taglio di capelli anni cinquanta, il che era un buon segno. Mi passò accanto una famigliola con le braccia cariche di premi di peluche che lasciò il locale tranquillamente. Quindi dov'è l'inghippo? chiese Annabeth. C'è sempre un inghippo. Concordavo. Non ero mai entrato in un locale gestito da una divinità greca, un mostro o un altro essere immortale che non avesse un brutto rovescio della medaglia. Più il posto sembrava interessante, più era pericoloso. Non lo so, ammise Grover. Io di solito prendo la grizia e me ne vado. Tengo un profilo basso. Mi guardò con le sopracciglia aggrottate, come se fosse preoccupato che potessi fare qualcosa di profilo alto, tipo mandare a fuoco la sala giochi. In tutta onestà ci rimasi male. Soltanto perché sono famoso per incendiare posti, far saltare in aria le cose e scatenare disastri apocalittici ovunque io vada, non significa che io sia totalmente irresponsabile. E sei sicuro che Ebe sia qui? chiesi. No ma... Grover strinse le spalle. Hai presente quella sensazione? Quando c'è un dio nei paraggi e non puoi vederlo, però ti senti come se avessi uno sciame di scarabèi stercorari dietro il collo? Non proprio. E poi gli scarabèi stercorari non sono così comuni, aggiunse Annabeth. Grover si spazzolò via dal collo i metaforici scarabèi della cacca. Comunque, adesso ho quella sensazione. Potremmo chiedere al personale se Ebe è in giro. Sempre ammesso che riusciamo a trovare qualcuno. Ci addentrammo nella sala giochi. Tenni la mano sul fianco pronto a tirare fuori vortice, la mia penna spada, anche se non sembrava esserci granché da combattere, tranne i bambini delle elementari e cattivi dei videogiochi. Quasi mi aspettavo che la band di Iguane Robot ci caricasse con le baionette inastate sui banjo, ma quelle continuarono a suonare le canzoni in saletta. «Dèi del cielo!» esclamò Annabeth a un certo punto. «Lego! Non ci gioco da...» Per un attimo sembrò perdersi in pensieri lontani. Era al campo mezzosangue da quando aveva sette anni, quindi doveva aver rivissuto un ricordo molto lontano. Mi parve ovvio che le piacesse un gioco in cui bisogna mettere un blocco sopra l'altro. Costruzioni e architettura sono un tutt'uno con lei. Mentre ci avvicinavamo allo stand delle caramelle sentii una fitta al petto. Non perché avessi fame, ma perché quell'odore mi ricordava tanto il vecchio posto di lavoro di mia madre, il negozio Dolcezze d'America. D'estate adoravo stare lì a guardarla mentre aiutava i clienti a scegliere tra i vari dolciomi. Immagino sia stato un lavoro faticoso e probabilmente mal pagato. Eppure lei non mancava mai di far sorridere le persone. Se ne andavano tutti felici con il giusto mix di leccornie e ai miei occhi lei era una vera supereroina. Certo, per molte ragioni lo è ancora, ma quando avevo sette o otto anni avere una mamma che era la regina delle caramelle sembrava la cosa più bella del mondo. Ogni volta che tornava a casa mi portava i campioni gratuiti e quel negozio aveva tutti i miei vecchi classici. Mu azzurre ai mirtilli, stringhe azzurre frizzanti, gelatine azzurre. Beh, tutto azzurro. È incredibile che la lingua non mi sia rimasta azzurra a vita. Groover annusò le matasse di stringhe di liquirizia, in versioni talmente colorate da ricordarmi il portacravatte di Paul. Lui ama indossare cravate stravaganti a scuola. Dice che tengono svegli gli studenti. Mi superò un gruppo di adulti ridacchianti e con gli occhi lucidi. Ricordavano le prelibatezze e i loro giochi preferiti dei bei tempi andati. È una trappola della nostalgia, realizzai. Questo posto vende alla gente la propria infanzia. Anna Bethannuì. Il suo sguardo vagava per quella immensa sala giochi come se stesse cercando possibili minacce. Già, ma sono molti i posti che vendono nostalgia. Non è necessariamente una cosa negativa. Passò un dipendente, polo azzurro brillante con stampigliato ebetudine e pantaloncini abbinati, agitando un rotolo di biglietti premio. Signorina, mi scusi? Annabeth le toccò il braccio e l'addetta fece un salto. Cosa c'è? Scattò. Mi resi conto che era solo una bambina. Aveva i capelli neri e arruffati trattenuti da due mollettine rosa, una faccia da bimbetta imbronciata e una targhetta con la scritta Sparky Manager. Avrà avuto non più di nove anni. Scusatemi, Sparky prese fiato. La macchinetta dei gettoni è di nuovo rotta e devo portare questi biglietti premio a... Non importa, come posso aiutarvi? Mi chiesi se gli dei avessero leggi sul lavoro minorile a regolamentare le loro attività magiche. Se così era, la dea della giovinezza a quanto pareva le ignorava bellamente. Stiamo cercando Ebe, le dissi. Se si tratta di un rimborso per un gioco difettoso... No, no, la interruppi. Oh, perché la pizza è muffa. Nemmeno, però che schifo. Dipende dallo stampo, murmurò Grover. Abbiamo solo bisogno di parlare con la dea responsabile, precisò Annabeth. È abbastanza urgente. Sparky aggrottò la fronte, poi si addolcì. Oltre lo scoglio dei tuffi, poi al pollaio a sinistra. Scoglio dei tuffi? Domandai stupito. Pollaio? Chiese Grover. Sarà al bar Karaoke. Sparky arricciò il naso come se fosse un fatto disdicevole. Non vi preoccupate, lo sentirete. E corse via con il rotolo di biglietti premio. Guardai Annabeth e Grover. Stiamo davvero andando a cercare un bar Karaoke? Cioè, di proposito? Puoi sempre fare un duetto con me su Shallow? Propose Annabeth. Meglio di no, credimi. Chissà, mi diede un delicato pizzicotto sul braccio. Potrebbe essere romantico. Io mi incammino, disse Grover, che probabilmente era la scelta più saggia. Trovammo lo scoglio dei tuffi, una parete di finta roccia alta due piani da cui si saltava in una pozza d'acqua sospettosamente torbida. Due bambini lo stavano facendo a ripetizione. Si tuffavano, emergevano a naspando e si precipitavano di nuovo in cima, mentre i genitori poco lontano erano assorti in una partita di Space Invaders. Io sono un figlio di Poseidone, ma giuro che non mi sarei tuffato in quella pozzanghera, neanche se mi avessero pagato. Una vasca senza ricambio d'acqua dove giocano dei bambini? No, grazie. Però presi nota di dove si trovava la piscina, nel caso avessi avuto bisogno di un po' di H2O da spargere in giro. Sono un tipo dai talenti limitati. Non posso cavarmela con l'acqua, la spada o il sarcasmo. Sono praticamente inerme. Il sarcasmo ce l'ho nel DNA, la penna spada sempre in tasca, e ora avevo accesso all'acqua, quindi ero preparato come mai avrei potuto essere. Superammo il pollaio, che pensavo fosse un soprannome per uno spazio riservato a eventi privati o cose simili, tipo feste di addio al nobilato o altre ricorrenze da pollastrelle. Invece no, era un pollaio vero e proprio. In mezzo all'immensa sala giochi c'era una baracca rossa costruita su palafitte, circondata da una rete per polli. Una decina di galline e qualche pulcino giallo becchettavano, chiocciavano e fondamentalmente facevano i polli. Perché? domandai. È l'animale sacro a Ebe, mi informò Annabeth. Meglio proseguire. Non mi opposi. Le galline ci fissarono con i loro occhietti neri e brillanti, come se stessero pensando, amico, se fossimo ancora dinosauri ti faremmo a pezzi. Finalmente trovammo il bar karaoke. Era separato dal resto del centro divertimenti da una coppia di porte scorrevoli in mogano, ma questo non impediva alla musica di filtrare. All'interno cinque o sei tavoli si affacciavano su un piccolo e tristissimo palcoscenico, dove un gruppetto di persone di una certa età cantava a squarciagola una canzone di stampo vagamente woodstockiano. Le luci del palcoscenico pulsavano di un giallo smonto e l'impianto audio crepitava, ma la cosa non sembrava preoccupare i boomer, che si abbracciavano l'un l'altro, agitavano i bastoni e pigolavano su pace e sole con le teste calde che riflettevano le luci. Possiamo andarcene adesso, implorò Grover. Annabeth indicò un separé contro la parete opposta. Guardate là. Seduta su un divanetto, c'era una ragazza della mia età che batteva i piedi al ritmo della musica. Almeno così sembrava una prima occhiata. Ma avrei potuto giurare che era una dea, perché gli immortali si rendono sempre un po' troppo impeccabili quando appaiono in forma umana. Carnagione perfetta, capelli acconciati per un servizio fotografico, vestiti troppo freschi di bucato e troppo colorati per appartenere ai comuni mortali. La ragazza indossava un mini abito rosa e turchese con stivaletti bianchi anni sessanta, ma in qualche modo riusciva a far sembrare il look alla moda e non un costume retro da Halloween. I capelli erano una nuvola scura cotonata ad alveare. Capì che aveva adottato quello stile per ricordare ai boomer la loro gioventù. Ci avvicinammo al divanetto. «Le diede?» la interpellai, pensando fosse il modo più sicuro per rivolgermi a lei. Evitai di azzardare Ebetudine come cognome. La dea alzò un dito per zittirmi, con gli occhi ancora fissi sul reparto geriatria. «Non sembrano felici? Di nuovo giovani!» I boomer sembravano davvero felici. Sul giovani avevo dei dubbi, ma forse a quei tempi significava una cosa diversa. «Sì», concordai. «Ci stavamo giusto chiedendo...» «Prego, sedetevi!» La dea agitò una mano e accanto al separé si materializzarono tre sedie. Poi Ebe pronunciò una delle minacce più terrificanti che io abbia mai sentito da una divinità. Ordino le pizze, così possiamo parlare mentre i vecchietti cantano le loro canzoni di protesta. Capitolo 7. Dove accade la tragedia? Offendo una dea. Fu colpa della pizza, non nel senso di intossicazione alimentare, nel senso di nostalgia.